Un sit-in al bivio di San Vittorino, frazione dell'Aquila, portato avanti da residenti e associazioni contro il taglio, a loro dire, indiscriminato, di alberi da parte dell'ANAS che gestisce quel tratto e che ora giacciono accatastati al lato della strada principale. Diverse persone hanno voluto manifestare la loro contrarietà all'azione dell'ANAS perché secondo loro si sta procedendo senza autorizzazione alcuna, un discorso che stanno portando avanti da tempo e che ha coinvolto anche la zona di Bazzano della Statale e la zona dell'ospedale. Il tentativo precedente però si riuscì a bloccare, proprio all'altezza dell'ospedale San Salvatore. La motivazione adotta da ANAS sarebbe quella della sicurezza stradale, ma per i presenti la sicurezza si garantisce con altri tipi di interventi, posizionando guardrail, potando le piante e al limite tagliando quelle malate che potrebbero sì rappresentare un problema. Per i manifestanti non si tratta però del caso di questi alberi in buona salute e tutelati dalla soprintendenza. Non è la prima volta, sappiamo benissimo che l'ANAS ha ormai, non in modo ufficiale, non in modo diffuso e propagandato, ma la politica nazionale di tagliare dove e quando possibile. Che siano ragioni economiche è comprensibile, che siano ragioni accampate di sicurezza non è altrettanto comprensibile, non è altrettanto giustificabile. In altri termini su queste vicende, sui tagli dell'ANAS, che sono già venuti in Abruzzo un po' dappertutto, ricordiamo l'alto piano delle 5 miglia, ricordiamo molte strade all'interno del Fucino e della Marsica, ci sono state anche importanti sentenze promosse dalla regione, in cui si afferma chiaramente che un albero non può essere tagliato per astratte motivazioni di sicurezza, ma la sicurezza deve essere dimostrata, cioè l'albero deve essere vecchio, malato, cariato, seccaginoso. Ci sono stati motivi oggettivi perché si può separare in questo senso. Naturalmente l'ANAS non ci sente, l'ANAS non vuole perché risparmia, ma posso dire che si tratta di politiche bassamente commerciali. L'intenzione dell'ANAS in questo frangente, in questo territorio, è di tagliare, l'hanno detto esplicitamente, dal bivio dell'ospedale e per fortuna i pini domestici che si trovano prima sono vincolati, per fortuna quella alberata che conduce all'ospedale, dal bivio dell'ospedale, la rotonda dell'ospedale fino a Ristia. Grazie. 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 Grazie.